Il ragazzo Il ragazzo avrebbe rubato e distrutto l'auto di un intoccabile Quattro persone sono state arrestate per estorsione dopo che avevano minacciato il padre della vittima Arrestato uno dei componenti della banda protagonista di un amicidio avvenuto nel 2011 a San Michele Salentino Si tratta del 27enne Nico Passiante in manette per detenzione legale di armi da guerra e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso Acqua per le zone industriali di Fasano e Brindisi Il presidente della commissione regionale Fabiano Amati ha dichiarato quasi 5 milioni per realizzare queste opere attese da anni 49 ricette per diventare ricchi Libro Provocazione di Raffaele De Leonardis presentato in Confindustria Brindisi Giornata europea dei ricercatori Domani nella cittadella della ricerca laboratori didattici attività che coinvolgeranno i visitatori Porte aperte dalle 10 alle 22 Straordinaria vittoria della Francavilla che spugna Avellino grazie ad un gol di Perez Seconda impresa in tre giorni per i biancazzurri dopo quella col Bari Il Lab Brindisi è un'ottima squadra ma faremmo di tutto per vincere Così in vista della sfida di domenica al Fanuzzi il presidente del Grumentum Antonio Petraglia a 100 Sport Magazine Un cordiale saluto ai nostri telespettatori Benvenuti a questa edizione della telegiornale che apriamo parlando di cronaca Perché c'è una svolta nel delitto del 19enne Gian Piero Carbone Il ragazzo avrebbe rubato e distrutto l'auto di un intoccabile Quattro persone sono state arrestate per estorsione dopo che avevano minacciato il padre della vittima Tutti i particolari nel servizio di apertura di Fabrizio Caglianiello Quattro persone in manette devono rispondere di estorsione pluriaggravata in danno di Piero Carbone Il padre di Gian Piero Carbone Il 19enne è ucciso a colpi di arma da fuoco sotto la sua abitazione lo scorso 10 settembre Importante svolta nelle indagini sull'omicidio del ragazzo Secondo l'investigatore il movente sarebbe da rintracciare in un episodio avvenuto poche ore prima del delitto Quando i quattro malviventi si sarebbero presentati a casa dei Carbone Accusando Gian Piero di aver rubato l'auto di uno di loro Auto che Carbone dopo il furto avrebbe distrutto a causa di un incidente Per questo avrebbero minacciato l'intera famiglia di conseguenze ben più gravi Se non li avessero risarciti dell'importo della vettura Insomma Gian Piero avrebbe rubato l'auto di un intoccabile Ed in questo senso si sviluppano le indagini Questa notte abbiamo arrestato quattro brindisini Per il delitto di tentata e estorsione pluriaggravata Ma il risultato investigativo va ad inserirsi nell'ambito più ampio Di un'indagine sicuramente più ampia E parliamo del delitto che si è maturato due settimane fa Uno in carcere e tre ai domiciliari Le indagini sono in corso quindi c'è il massimo riservo Si parte dal furto di un'auto che potrebbe essere il movente del delitto di estorsione Sono personaggi vicini tra loro Ritengo che stiamo lavorando e che speriamo di arrivare presto alla soluzione del caso È stato arrestato uno dei componenti della banda Protagonista di un omicidio avvenuto nel 2011 a San Michele Salentino Si tratta della 27enne Nico Passiante In manette per detenzione illegali di armi da guerra E ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso Sentiamo Andrea Contaldi È stato arrestato uno dei componenti della banda Protagonista di un omicidio avvenuto nel 2011 a San Michele Salentino Uno dei componenti della banda Protagonista di un omicidio avvenuto nel 2011 a San Michele Salentino I carabinieri di Francavilla Fontano Hanno arrestato Nico Passiante, 27enne L'uomo deve spiare la pena residua di due anni, due mesi e 17 giorni di reclusione Per detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione Reati perpetati con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare la Sacra Corona Unita L'uomo è stato condannato con il giudizio abbreviato a quattro anni di reclusione Al pagamento della pena pecuniaria di 12.000 euro Ha già scontato agli arresti domiciliari un anno e nove mesi L'operazione a seguito della quale venne arrestato Passiante denominata Scacco agli Imperiali è stata condotta dai militari della Compagnia di Francavilla Fontana coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce L'attività scaturisce dall'esito delle investigazioni svolte dai militari nell'indagine denominata Terminator del 2011 proseguita poi con la successiva operazione del 2013 Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Brindisi e successivamente dalla DDA di Lecce furono avviate a seguito di un omicidio avvenuto nel 2011 a San Michele Salentino Le attività hanno permesso nel tempo di individuare un gruppo criminale operante nella città degli Imperiali e a Mesagne dedito alla commissione di reati di tipo associativo Nico Passiante ha avuto un ruolo all'interno del sodalizio fornendo continua opera di manutenzione e allarmamento a disposizione della banda L'arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi Oltre tre quintali di rame sono stati sequestrati dopo che alla sala operativa della Questura di Brindisi è stata segnalata la presenza di tre persone indaffarate nelle vicinanze di un furgone bianco che si trovava in Contrada Restinco così un equipaggio si è arrecato sul posto ha notato il furgone e anche del fumo proveniente dalle vicinanze del mezzo gli agenti hanno notato tre persone che si allontanavano che si davano alla fuga nelle campagne facendo perdere le proprie tracce hanno accertato che i tre erano intenti a bruciare la copertura di plastica di numerosi fili di rame per ricavarne appunto il metallo nel furgone sono stati rinvenuti cavi elettrici oltre a 24 batterie e poi sono stati trovati anche abiti e attrezzi atti allo scasso tutto compreso il furgone è stato sequestrato sono in corso le indagini per risalire agli autori di questo reato cambiamo argomento quasi 5 milioni per realizzare opere che sono attese da anni e si tratta di opere che porteranno acqua per le zone industriali di Brindisi e di Fasano su questo argomento è intervenuto il presidente della commissione bilancio della regione Puglia Fabiano Amati le zone industriali di Brindisi e Fasano Sud hanno ottenuto il finanziamento di 4 milioni 949 mila euro per due progetti in ambito idrico con la pubblicazione ufficiale di assegnazione si conoscerà l'elenco completo delle opere finanziate per tutte le aree industriali della provincia di Brindisi continua la grande storia delle opere pubbliche che si realizzano così sull'argomento il presidente della commissione regionale bilancio Fabiano Amati per Fasano si tratta della realizzazione del tronco di adduzione idrica primo anello di distribuzione parte della viabilità a servizio dell'agglomerato industriale di Fasano Sud per Brindisi invece delle opere per il miglioramento del servizio di produzione e distribuzione acqua industriale in vaso del Cillarese le somme sono state assegnate con una procedura negoziata con la quale la regione Puglia ha assegnato 50 milioni di euro alle ASI le aree di sviluppo industriale pugliesi per la loro riqualificazione finalizzata all'attrazione di nuovi investimenti interventi importantissimi che si attendevano da anni 49 ricette per diventare ricchi il libro Provocazione di Raffaele De Leonardis è stato presentato questa mattina nella sede di Confindustria Brindisi noi abbiamo intervistato l'autore sezione terziario innovativo professionalità a supporto della tua azienda nella sede di Confindustria Brindisi nella sala convegni si è svolta la presentazione del libro I pilastri della ricchezza scritto da Raffaele De Leonardis hanno partecipato all'incontro il presidente di Confindustria Brindisi Patrick Marcucci e Sandro Nasta presidente della sezione terziario innovativo di Confindustria Brindisi 49 ricette per avere un po' di soldi prima di diventare troppo vecchi da un lato una provocazione ma ci sono anche delle indicazioni per raggiungere questo obiettivo nel suo libro certo i pilastri della ricchezza soprattutto una guida una sorta di viaggio attraverso l'affascinante mondo della costruzione del proprio risparmio del proprio patrimonio poi la gestione di questo risparmio di questo patrimonio quindi io in realtà ho voluto raccontare attraverso delle storie abbastanza note di imprenditori di successo, sportivi, eventi storici e così via raccontare quelle che sono le più importanti accortezze che bisognerebbe attuare per poter intanto far crescere il proprio risparmio accumularlo e poi imparare a investirlo bene e a rischiare il meno possibile o addirittura eliminare del tutto i rischi quali sono questi pilastri? Il libro ha 49 regole, sono sette sezioni diciamo che per comodità io divido tutto il libro in due grandi aree c'è prima la creazione della ricchezza e poi la gestione della ricchezza nella creazione della ricchezza ci sono una serie di sezioni che riguardano l'impresa, l'accumulo, il giusto atteggiamento per iniziare a risparmiare e poi anche a creare impresa nella seconda parte quella della gestione delle risorse e del risparmio ci sono invece delle regole più pratiche per quello che riguarda gli investimenti e la diversificazione degli investimenti Ma qual è l'identikit dell'imprenditore di successo? È una domanda bella, pesante perché in realtà ognuno deve costruire dentro di sé prima di tutto il perché quindi io direi che l'imprenditore di successo è colui che parte da un perché molto forte potremmo definire l'obiettivo, potremmo definirlo vision avere una forte motivazione che poi fa venire fuori delle idee e delle azioni vincenti È anche eticamente sostenibile il progetto secondo lei? Assolutamente Io ci tengo a dirlo perché l'ho premesso nel libro la ricchezza e le risorse non devono mai essere intese come un fine della vita ma come un mezzo un mezzo per raggiungere gli obiettivi che poi sono quelli più importanti per l'uomo a incominciare dai rapporti umani ovviamente Giornata europea dei ricercatori domani nella cittadella della ricerca laboratori didattici e attività che coinvolgeranno i visitatori compresi tanti bambini porte aperte dalle ore 10 alle 22 la presentazione dell'evento si è svolta questa mattina nel salone della provincia di Brindisi sentiamo Enea ha organizzato per venerdì 27 settembre nella cittadella della ricerca di Brindisi un ricco menù di iniziative dalle ore 10 alle ore 22 tolchi ispirativi su materiali avanzati su cambiamenti climatici sulle città sostenibili giochi per ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni esperimenti didattici visite dai laboratori di ricerca ancora isole tecnologiche dimostrazioni interattive spettacoli di scienza e poi una mostra delle macchine di Leonardo del museo di Galatone che sarà allestita con pezzi selezionati in dimensioni reali della collezione Giuseppe Manisco i visitatori potranno osservare gli astri e il cielo con telescopi guidati da esperti astrofili locali di Brindisi e di Lecce dal dato dell'anno scorso 1500 visitatori che lasciano bene a sperare per l'edizione 2019 la seconda nel territorio brindisino Sì, domani Enea ospita in Cittadella la Notte Europea dei Ricercatori per l'edizione 2019 il progetto finanziato dalla Commissione Europea coordinato in Puglia dall'Università del Salendo insieme a tutte le altre università pugliesi compreso gli enti pubblici di ricerca tra cui l'Enea a Brindisi l'Enea ha movimentato sulla città di Brindisi tutti gli operatori cittadella presenti le scuole, l'ufficio scolastico provinciale gli ordini professionali degli ingegneri e tutte le associazioni private e pubbliche che girano e orbitano nel mondo della ricerca e dell'innovazione Che tipo di attività proporrete ai visitatori? Quest'anno l'edizione 2019 sarà dedicata al cinquantenario dell'allunaggio, dell'uomo sulla luna su questo abbiamo già fatto una manifestazione venerdì 20 settembre sulla scarinata virgiliana con la professoressa Caraveo in Cittadella il 27 apriamo i laboratori allestimento di isole tecnologiche giochi per ragazzi esperimenti didattici spettacolo di scienza allestimento di museo delle macchine di Leonardo del museo di Galatone poster 3D delle macchine di Leonardo e dibattito sulle donne nella scienza e nel sociale e infine chiudiamo con una tavola rotonda con la presenza delle autorità locali e degli imprenditori locali sullo sviluppo del territorio Ed ora una denuncia da anni Gian Piero Epifani che oggi rappresenta idea per Brindisi si occupa della situazione del parco del Cesare Ebraico tante le denunce fatte negli ultimi anni oggi Epifani ritorna su questo argomento e scrive a quasi un anno e mezzo dall'insediamento della nuova amministrazione le promesse sono state disattese il parco Cesare Ebraico è ancora al buio andiamo incontro alla bella stagione la primavera, l'estate con l'illuminazione potremo usufruire di questo parco anche nelle ore serali queste le dichiarazioni del sindaco fatte in un video all'interno del parco Cesare Ebraico il 26 marzo 2019 ricorda Epifani qualcuno avvisi il sindaco che la primavera e l'estate sono già passate e i cittadini aspettano ancora forse è il caso di non perdere tempo e di darsi una mossa nell'interesse conclude Epifani delle centinaia di brindisini che vivono quel parco ed ora facciamo una pausa ci rivediamo fra pochissimo per la seconda parte della telegiornale a Francavilla Fontana sarà ristrutturata l'ex scuola per l'infanzia di via Nazario Sauro sarà realizzato un centro di supporto per l'infanzia e per le famiglie ce ne parla Filippo Melillo l'ambito territoriale di Francavilla Fontana BR3 ha avviato nei giorni scorsi l'iter per il finanziamento di 600 mila euro finalizzata al recupero dell'ex scuola dell'infanzia De Amicis di via Nazario Sauro l'intervento che prevede una compartecipazione aggiuntiva dell'amministrazione comunale per 100 mila euro se approvato trasformerà la struttura in un centro per il supporto e la promozione del benessere dell'infanzia e delle famiglie ospitando al proprio interno equip altamente specializzate con la richiesta di finanziamento presentata dai tecnici dell'ufficio di ambito si è concluso l'iter procedulare per cercare di ottenere quel finanziamento che consentirà al territorio francavillese di ristrutturare l'ex scuola De Amicis il finanziamento o meglio il cofinanziamento suddiviso in 600 mila euro di fondi regionali e comunitari e 100 mila euro di cofinanziamento comunale consentirà al territorio francavillese di dotarsi di una struttura innovativa complessa per promuovere il benessere dell'infanzia e delle famiglie dotato altresì di un centro polivalente in grado di supportare la genitorialità attraverso un centro di adozioni ed affidi in pratica un importante risultato per i servizi sociali del comune di francavilla e un fiore all'occhiello per l'intera regione Puglia naturalmente i miei ringraziamenti vanno ai tecnici di ambito supportati magistralmente dal direttore Budano nonché al presidente Angelo Palmisano per l'impegno e il sostegno che ci ha fatto che ci ha dato i tempi di realizzazione dipendono naturalmente dal secondo di del procedurale ovvero quello in capo alla regione quindi spero siano assolutamente dei termini brevi Prima di parlare di calcio parliamo di solidarietà che è abbinata allo sport e in questo caso proprio al calcio perché sabato 28 e domenica 29 settembre ci sono le giornate nazionali di informazione e autofinanziamento dell'Aido l'associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule giunta alla diciottesima edizione promossa con l'adesione della presidente della Repubblica nell'occasione si rinnova anche l'appuntamento annuale con la campagna un anturium per l'informazione per questa ricorrenza il gruppo comunale Aido Marco Bungaro di Brindisi ha concordato con il massimo sodelizio calcistico della città la SSD Brindisi FC che in occasione della partita contro il Grumentum in Val Draghi valida per la quarta giornata del campionato di Serie D in programma domenica 29 settembre nello stadio Franco Fanuzzi i 22 calciatori titolari di entrambe le formazioni relative allenatori indosseranno al momento dell'ingresso in campo e durante lo schieramento di saluto al pubblico t-shirt bianche recanti il logo dell'Aido parteciperanno il presidente dell'Aido Brindisi Dorina Piliego e il presidente del Brindisi Antonio Giannelli mentre lo speaker dello stadio spiegherà al pubblico quello che accade in campo e qual è la missione dell'associazione leggerà un testo sulla giornata nazionale ora quindi parliamo di calcio ma partiamo dal Brindisi non dalla Virtus Franca Villa perché il Brindisi è un'ottima squadra ma faremo di tutto per vincere sono queste le dichiarazioni in vista della sfida di domenica nello stadio Franco Fanuzzi del presidente del Grumentum Antonio Petraglia Accento Sport Magazine sentiamo tanto è una stagione comunque storica per questo club e per la città perché è la prima in Serie D un suo bilancio rispetto queste prime quattro giornate avete anche raccolto una vittoria molto pesante abbastanza sfortunata devo dire in altre circostanze la formazione lucana però ecco ci aiuta un po' a inquadrare la sua squadra Noi siamo una squadra che come penso molte squadre sono un mix tra giocatori di una certa esperienza e giocatori giovani quindi riteniamo che c'è stata una squadra che sia stata costruita una squadra equilibrata e ho iniziato bene da un ottimo mister che è mister Pinamore abbiamo anche investito per cui abbiamo potuto ovviamente in base alle nostre risorse sullo staff medico e atletico quindi sullo staff tecnico in generale io credo che queste nostre prime prestazioni ci hanno rivelino se è stato fatto un buon lavoro al di là del risultato se noi analizziamo le singole partite vediamo che a strassi abbiamo espresso sempre un bel gioco abbiamo tenuto tetta ad avversari anche più blasfomati e questo ci lascia ben sperare per il futuro perché insomma noi abbiamo avuto un inizio di campionato e ancora durerà tutto in salita e tutto con squadre di una certa consistenza e l'ultimo in ordine è stato il talento che è una vera e propria corazzata che secondo me fosse la candidata più credibile per la vittoria finale assolutamente domenica c'è questa partita con Illa Brindisi ecco al di là chiaramente di eventuali previsioni che tipo di partita proprio si aspetta e che grumentum dobbiamo aspettarci ma noi allora il nostro mister come peraltro anche gli altri allenatori io ripeto sono un neottica non mi permetto di dare lezioni di calcio sono un appassionato sono un'espetta per stanti anni ho visto partite a San Tiro col mio Milan quindi anche sono Milan di una certa caratura forse con quello di adesso ma io vedo che il nostro allenatore come tutti gli altri organizza noi non abbiamo una trama di gioco ben definita in una intervista al vostro brillante a Semorazzo noi abbiamo io ho sottolineato l'umiltà della squadra del Taranto io credo che il mister sia venuto nel nostro stadio e abbia costruito una partita su misura per quel termine di gioco Lega Pro straordinaria vittoria del Francavilla che spugna Avellino grazie ad un gol di Perez seconda impresa in tre giorni per i Biancazzurri dopo quella con il Bari allo stadio Partenio Lombardi la Virtus Francavilla infila la seconda vittoria consecutiva vincendo 1-0 contro Lavellino e agganciandolo in classifica a quota 9 punti un successo meritato per i pugliesi più concreti in avanti e soprattutto molto più attenti in difesa parte bene però Lavellino anche se sono gli ospiti ad andare in rete due volte prima con Mastropietro e poi con Perez ma entrambi i gol sono annullati per fuorigioco la grande occasione per i pugliesi che crescono con il passare dei minuti arriva al minuto numero 32 quando Vasquez imbeccato da Albertini tutto solo dinanzi al portiere manda di testa la palla clamorosamente a lato il gol arriva meritatamente sette minuti dopo è il trentanovesimo angolo di Gigliotti per Perez che anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Tonti rimasto sorpreso dalla deviazione Avellino 0 Franca Villa 1 si va così negli spogliatoi con il montaggio di Dario Spagnolo passiamo alla ripresa nel secondo tempo non succede granché nel finale la squadra dei trocini resta però in 10 per l'espulsione per doppia munizione di Tiritiello Avellino ci prova senza però riuscire a superare una difesa guidata da un caporale davvero strepitoso è il secondo KO consecutivo per l'Avellino seconda vittoria consecutiva straordinaria invece per un Franca Villa in piena salute questa sera in occasione della prima partita di campionato della New Basket Brindisi e per il resto del campionato sarà attivo come lo scorso anno il servizio di navetta gratuito la partenza è prevista sempre un'ora prima dell'inizio del match dalla capolinea di via Benedetto Brin quindi quartiere Casale nei pressi dello stadio la partenza alle 19 e 30 queste le fermate e programmate per quanto riguarda l'andata da via Benedetto Brin si farà il percorso verso il centro della città di Brindisi da via Bastioni Carlo Quinto alla stazione ferroviaria per arrivare alla Palapentassuglia ovviamente stesso percorso anche per il ritorno percorso che è rimasto invariato rispetto allo scorso anno per il ritorno la partenza dal Palapentassuglia è prevista sempre 15 minuti dopo la fine della partita è tutto per quanto riguarda questa edizione della telegiornale ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo grazie per la cortese attenzione arrivederci e buon proseguimento di serata